Un caloroso benvenuto dalla Deutzfahr Arena di Lauingen. Siamo lieti di presentarvi oggi tre nuovi modelli della serie 6.4. Questi modelli coprono una gamma di potenza che va dai 136 cavalli del 6130.4 fino ai 156 cavalli del 6150.4, ciascuno con due varianti di trasmissione. Grazie al passo corto, all'estrema manovrabilità e alla perfetta visibilità a tutto tondo, sono ideali per l'utilizzo con un caricatore frontale in spazi ristretti e stabiliscono lo standard nel segmento dei potenti trattori polivalenti. Anche i nuovi modelli della serie 6.4 vengono prodotti qui, nella Deutzfahrland, la fabbrica di trattori più moderna d'Europa. L'utilizzo di impianti di produzione all'avanguardia garantisce la massima qualità. I collaudati e potenti motori a quattro cilindri, Stage 5 FarMotion 45, hanno esattamente la cilindrata necessaria per questa classe di potenza. Grazie all'uso di un turbocompressore a geometria variabile, non solo erogano un'elevata potenza, ma convincono anche per l'elevata compia. Nel 6150.4, ad esempio, la coppia massima di 663 Nm è già disponibile a 1000 giri motore. Di conseguenza, i modelli sono estremamente scattanti e si può mantenere il regime del motore più basso durante il lavoro, risparmiando così carburante. In combinazione con il serbatoio del carburante da 260 litri, è possibile lavorare ininterrottamente anche nelle giornate di lavoro più lunghe. Per soddisfare le esigenze di tutti gli agricoltori e contoterzisti, offriamo due diverse varianti di trasmissione per i nuovi modelli della serie 6.4. Oltre all'innovativa trasmissione RV-Shift con il suo concetto Full Power Shift, è disponibile anche la trasmissione TTV a variazione continua. Entrambe le opzioni consentono naturalmente una velocità massima di 50 km orari a regimi motore ridotti. Ora diamo un'occhiata più da vicino alle varianti di trasmissione. L'esclusiva trasmissione RV-Shift si basa su un concetto Full Power Shift e offre 20 marce avanti e 16 indietro. Opzionalmente, può essere dotato di un Creeper. Questo offre velocità regolabile secondo le esigenze da 20 metri orari a 5 km orari. Pertanto, la trasmissione RV-Shift consente di scegliere la perfetta velocità durante l'utilizzo con il carro miscelatore ed è adatta anche per il lavoro in un'azienda agricola, in combinazione con pneumatici municipali. L'elemento di controllo centrale della trasmissione RV-Shift è il nuovo joystick RV-Shift. Spingendolo in avanti si aumentano le marce, mentre tirandolo indietro si scalano le marce. Grazie al design intelligente della trasmissione, tutti i cambi di marcia avvengono senza soluzione di continuità e senza alcuna interruzione della trazione. Per passare facilmente dai trasporti veloci ai lavori sul campo, la trasmissione RV-Shift offre le modalità Field e Road, ciascuna con la propria impostazione. Queste modalità possono essere personalizzate in base alle proprie esigenze. Con la semplice pressione di un pulsante, consentono di passare all'intervallo di rapporti desiderato senza cambio manuale. Inoltre, la trasmissione RV-Shift è dotata di una funzione APS che cambia automaticamente tutte le marce in modalità Field e Road, nonché di un Cruise Control che attiva la velocità desiderata quando il joystick viene premuto a sinistra. Anche l'apprezzatissima funzione Stop & Go è stata ulteriormente migliorata. In modalità Advanced, il trattore rimane fermo dopo la frenata fino a quando non si preme nuovamente il pedale dell'acceleratore. Come tutti i modelli della gamma serie 6, anche i nuovi modelli a quattro cilindri possono essere equipaggiati con una trasmissione TTV a variazione continua. Rapidi cambi di direzione, accelerazioni costanti e fluide, nonché un'elevata potenza di trazione combinata con un'elevata efficienza, sono solo alcuni dei punti di forza della trasmissione TTV. Con la possibilità di regolare autonomamente la velocità di marcia e il numero di giri del motore, la trasmissione TTV stabilisce nuovi standard in termini di efficienza e comfort, rappresentando gli ultimi progressi nella tecnologia delle trasmissioni per i trattori agricoli. Per garantire caratteristiche di guida ideali a ogni attività, la trasmissione TTV offre tre modalità di guida. Auto, PTO e manuale. Per il massimo comfort, le modalità Auto e PTO dispongono di due impostazioni del Cruise Control. Semplicemente tenendo premuto il rispettivo pulsante Cruise Control sul joystick MaxCom, è possibile memorizzare e attivare la velocità desiderata. La velocità può essere regolata in qualsiasi momento utilizzando l'i-monitor, il joystick o la rotella posteriore. Dopo aver svoltato in capezzagna, è possibile riattivare facilmente la velocità memorizzata con la semplice pressione di un pulsante. Quando si lavora su terreni collinari, si apprezza la funzione Power Zero. Questa funzione consente di arrestare temporaneamente il trattore su pendi ribidi, anche con attrezzi collegati, semplicemente rilasciando il pedale dell'acceleratore. Per riprendere il movimento, è sufficiente premere nuovamente il pedale dell'acceleratore. Questo non solo è semplice e conveniente, ma aumenta anche la sicurezza. L'anteriore dei nuovi modelli della Serie 6.4 può essere adattato in modo ottimale alle vostre esigenze. Oltre alle diverse zavorre, sono disponibili anche un sollevatore anteriore, con PTO opzionale e due vie idrauliche. Pertanto, i nuovi modelli della Serie 6.4 sono perfettamente attrezzati per tutti i lavori nei prati e nei seminativi. Il bloccaggio dei differenziali al 100%, che grazie al sistema ASM si attiva e disattiva in modo completamente automatico a seconda della velocità di marcia e dell'angolo di sterzata, assicura la massima propulsione e la massima protezione del suolo. Questa funzione intelligente non solo protegge il terreno, ma riduce anche il raggio di sterzata. Ora concentriamoci sull'idraulica, sulla presa di forza e sul sollevatore posteriore. Con una capacità di sollevamento posteriore fino a 9,17 tonnellate, i nuovi modelli della Serie 6.4 gestiscono senza sforzo attrezzature pesanti e impegnative. Con un carico massimo ammissibile di 10,5 tonnellate, hanno una capacità di carico utile sufficiente per lavorare con attrezzature pesanti. Inoltre, possono beneficiare di un carico verticale di 3 tonnellate sull'attacco K80, anche a velocità fino a 50 km orari. Le velocità della PTO posteriore possono ora essere regolate in modo comodo e intuitivo tramite comandi elettroidraulici. Inoltre, per i lavori con un rimorchio con asse trazionato, è disponibile una PTO sincronizzata con albero indipendente. A seconda delle esigenze, i nuovi modelli possono essere equipaggiati con un impianto idraulico Load Sensing, che eroga una portata di 120 litri al minuto, insieme a varie opzioni per distributori aggiuntivi. Con la cabina Maxi Vision è possibile avere fino a 4 distributori posteriori meccanici. Questa configurazione è ideale per coloro che apprezzano il funzionamento semplice dei distributori meccanici. Maxi Vision è disponibile esclusivamente in combinazione con la trasmissione RV-Shift. Con la cabina Maxi Vision Pro è possibile avere fino a 5 distributori posteriori elettroidraulici. Grazie alla sua completa configurabilità, questa configurazione è ideale per coloro che lavorano spesso con ISOBUS e sistemi di guida automatica. Maxi Vision Pro è disponibile esclusivamente per i modelli TTV della nuova serie 6.4. Se preferisci un'esperienza user-friendly con maggiore comfort, abbiamo l'opzione perfetta per te, la nuova cabina Maxi Vision Plus. Questa configurazione offre una combinazione di due distributori posteriori meccanici e due elettroidraulici. Con questa configurazione è possibile godere del funzionamento semplice dei distributori meccanici e del maggiore comfort di quelli elettroidraulici. Maxi Vision Plus è disponibile per tutti i modelli della nuova serie 6.4. A seconda della configurazione, è possibile aggiungere ulteriori distributori elettroidraulici ventrali per il sollevatore anteriore e un distributore nella parte anteriore. Per i nuovi modelli della serie 6.4, abbiamo ulteriormente migliorato la cabina Maxi Vision. Appena entrati in cabina, noterai i nuovi specchietti retrovisori X-Large Vision, che garantiscono un'eccellente visibilità del posteriore. Una volta preso posto, noterai anche il nuovo volante, le interfacce grafiche aggiornate e il box frigorifero opzionale, che mantiene fresche le tue bevande e i tuoi snack anche nelle giornate calde. Per fornire un facile accesso alle funzioni utilizzate di frequente, il bracciolo multifunzione dei modelli RV Shift include quattro pulsanti programmabili. Sia che vogliate azionare il power shuttle, il sollevatore posteriore o le vie idrauliche, è possibile assegnare comodamente queste e altre funzioni ai pulsanti. Nei modelli con trasmissione TTVI, beneficiate anche di due pulsanti programmabili e della gestione a fine campo Comfort Tip. In questo modo è possibile registrare e richiamare le sequenze di lavoro in capezzagna con la semplice pressione di un pulsante. Sperimenta la migliore qualità del suono con ottimi bassi grazie al nuovo sistema audio premium 4.1, incluso un subwoofer. In combinazione con la radio DAB+, che dispone anche di serie di una funzione viva voce integrata, puoi riprodurre comodamente le tue canzoni preferite direttamente dal tuo smartphone tramite Bluetooth. E grazie alle due prese di ricarica USB, i tuoi dispositivi rimangono operativi per tutto il giorno. Il sistema di climatizzazione è dotato di prese d'aria aggiuntive e di un sistema di filtraggio migliorato, che fornisce il massimo flusso d'aria, con livelli di rumorosità ridotti. I 21 fari di lavoro a LED, abbinati ai fari a LED, illuminano l'area intorno al trattore serie 6.4 con una luce ampia e brillante, garantendo la massima concentrazione anche durante le ore tarde. E una volta terminati i lavori, puoi uscire in sicurezza dall'area di parcheggio del tuo nuovo trattore serie 6.4, grazie alla funzione Coming Home. Grazie al cofano compatto, all'eccezionale visibilità dalla cabina Maxi Vision, al potente impianto idraulico e all'elevata manovrabilità, i nuovi modelli della serie 6.4 sono trattori ideali con caricatore frontale, offrendo caratteristiche ottimali per il trasporto di materiali. I modelli, dotati di configurazioni Maxi Vision Plus e Pro, consentono un comodo funzionamento del caricatore frontale attraverso il joystick elettronico situato nel bracciolo. Hai anche la possibilità di cambiare facilmente marcia o indicazioni di guida utilizzando il joystick. In combinazione con il Power Shuttle regolabile, lo sterzo rapido Easy Steer opzionale e la funzione Stop & Go, è possibile ottenere cicli di carico più rapidi. Oltre ai caricatori frontali, profiline perfettamente abbinati con telaio largo, avrete a disposizione potenti trattori con caricatore frontale. Con altezze di sollevamento fino a 4,32 metri e forze di strappo fino a 4580 decanewton, rimarrai impressionato dalla loro potenza e dalle loro capacità prestazionali. Durante le lunghe giornate di lavoro sul campo, le ultime tecnologie per l'autosteering e la telematica garantiscono la massima precisione ed efficienza. Inoltre, la funzione Auto Turn vi assiste gestendo autonomamente il trattore a fine campo senza la necessità di un intervento manuale. Il segnale di correzione centimetrico preciso e affidabile, richiesto a tale scopo, è garantito dal nuovo ricevitore SR20. È in grado di ricevere segnali da vari sistemi satellitari, tra cui il sistema satellitare europeo Galileo. Inoltre, il nuovo modem passa automaticamente alla migliore rete mobile disponibile per l'utilizzo di RTK N3, garantendo una connettività senza interruzioni e una trasmissione dati affidabile. Per tutti i modelli della Serie 6.4 è disponibile SDF Fleet Management. Con questo sistema è possibile ricevere in tempo reale dati specifici della macchina, analizzare le prestazioni del trattore, monitorarne le operazioni e ottimizzarne l'utilizzo. In combinazione con l'iMonitor include l'accesso remoto, che consente di ricevere supporto immediato dal rivenditore, se necessario. Consente inoltre l'uso della piattaforma di scambio dati AgriRouter, che trasferisce in modo affidabile i dati dall'iMonitor al software desiderato, come un sistema informativo di gestione dell'azienda agricola, semplificando i processi del flusso di lavoro. Poiché l'iMonitor può visualizzare un'ampia gamma di funzioni contemporaneamente, c'è un'opzione per espandere lo schermo in modo flessibile con un tablet. Con Xtend, il tablet è collegato all'iMonitor e può quindi visualizzare il sistema autosteering o un Universal Terminal Isobus. In questo modo è possibile utilizzare l'iMonitor per autosteering e monitorare il controllo di un massimo di 200 sezioni, visualizzando contemporaneamente Universal Terminal Isobus sul tablet. Poiché il tablet è collegato in modalità wireless all'iMonitor, è possibile utilizzarlo comodamente all'esterno della cabina per effettuare regolazioni dirette sull'attrezzo. Equipaggiati per il futuro, i nuovi modelli TTV della serie 6.4 sono predisposti TEAM. Ciò consente la comunicazione tra trattore e attrezzo in entrambe le direzioni. Il risultato? L'attrezzo controlla automaticamente alcune funzioni del trattore, come il controllo della velocità di avanzamento o l'apertura dell'imballatrice. Poiché la macchina può essere utilizzata in modo ottimale, TEAM aumenta l'efficienza e la qualità del lavoro, riducendo allo stesso tempo lo stress per l'operatore. Per ulteriori informazioni su Isobus e Xtend, visitare il sito deutzfahr.com. Durante lo sviluppo dei nuovi modelli della serie 6.4 è stata prestata particolare attenzione alla riduzione al minimo dei costi di manutenzione e di esercizio. Ad esempio, grazie alle punterie idrauliche, non sono più necessarie regolazioni delle valvole. Inoltre, il filtro dell'aria ad alte prestazioni è dotato di un preseparatore a ciclone, che rimuove in anticipo il 95% delle particelle grossolane, garantendo la massima durata. Un collegamento per l'aria compressa è integrato nella scaletta per la pulizia di cabina e radiatori. Per una facile pulizia, il condensatore dell'aria condizionata e le griglie di pulizia possono essere estratti. La pistola ad aria compressa, necessaria insieme al tubo, può essere comodamente riposta nella cassetta degli attrezzi sul lato sinistro del veicolo. Sul lato opposto c'è una seconda cassetta degli attrezzi. Inoltre, ben protetto dietro una copertura, un polo jump start per la batteria. A seconda delle esigenze, i nuovi modelli della serie 6.4 possono essere equipaggiati con un sistema di frenatura idraulico, pneumatico o una combinazione di entrambi i sistemi di frenatura del rimorchio. L'impianto frenante idraulico offre una funzione dual mode, che consente di collegare rimorchi nuovi e vecchi. Inoltre, il sistema frenante pneumatico include una gestione avanzata dei freni del rimorchio, o ATBM, brevettata. Per ridurre i tempi di risposta, l'ATBM applica pressione non appena viene rilevata la spienta. Durante la frenata, ottimizza anche le prestazioni di frenata del rimorchio. In questo modo si riduce notevolmente lo spazio di frenata e si aumenta la stabilità. Per una sicurezza e un comfort ancora maggiori durante il trasporto, i nuovi modelli della serie 6.4 possono essere equipaggiati anche con pneumatici municipali e freno motore idraulico. Grazie al design innovativo, l'effetto frenante può essere regolato in 10 livelli. Una volta giunti a destinazione, il freno di stazionamento elettronico garantisce una forza frenante costantemente elevata e quindi la massima stabilità anche in montagna. Maneggevoli, efficienti e potenti. Questi sono i nuovi modelli della serie 6.4 di Deutzfahr, sia con trasmissione RV-Shift, sia TTV in verde Deutzfahr o come Warrior in nero. Prodotti nella Deutzfahrland di Lauengen, tutti i modelli combinano l'eccezionale qualità e l'innovativa tecnologia tedesca. Per ulteriori informazioni, visita Deutzfahr.com e contatta il tuo concessionario Deutzfahr locale per saperne di più e programmare una dimostrazione. I nuovi modelli della serie 6.4 di Deutzfahr, su misura per la vostra attività. Sei ancora qui. Tutte le informazioni sui modelli Deutzfahr serie 6 più potenti sono disponibili qui. Tutte le informazioni sui modelli della serie 6 più potenti sono disponibili. Il formazioni sui modelli della serie 6 più potenti sono disponibili.